Come una donna elabora un trauma, prova ad immaginare questo viaggio nell'inconscio Samantha Casella, giovane regista faentina che ha già riscosso numerosi premi con la sua Santa Guerra. Nei giorni scorsi la presentazione a Barletta. Marilena Pastore. Santa Guerra è il suo primo lungometraggio. Samantha Casella, giovane regista faentina, ha già ricevuto centinaia di riconoscimenti nei festival di cinema di tutto il mondo, tra cui premi come miglior regia femminile al Cinemagic Film Festival al Vegas Movie Awards e al Global Film Competition. Ma Santa Guerra è stata una vera sfida, non solo perché è girato in piena pandemia, ma perché è un film complesso, non per tutti, tra l'onirico e il surreale, un viaggio nell'inconscio nel quale una donna rivive ed elabora un trauma legato ad un figlio. È ambientato in un non luogo e su tre diverse dimensioni, con i differenti piani di una stessa coscienza nel quale si trovano a vagare le protagoniste, interpretate da Eugenia Costantini, figlia di Laura Morante, Emma Quartullo, figlia di Elena Sofia Ricci, e Decaterina Buscemi, con la partecipazione straordinaria di Maria Grazia Cucinotta. Presentato al Festival del Cinema di Venezia, nello spazio ente fondazione dello spettacolo, ha già ricevuto il premio Cinema Italiano e il premio Tangù per il cinema. A livello internazionale, Casella ha ottenuto il premio per il miglior film e la miglior attrice al First Woman Film Festival iraniano, giudicato miglior film sulle donne al Night of the Real Wars in India. Santa Guerra è stato presentato nei giorni scorsi alla multisala Paolillo a Barletta, alla presenza della stessa regista. A firmare invece le musiche del lungometraggio il giovane Enrico Paolillo, pronipote del fondatore dello storico Politeama Barlettano. In un saggio che esiste solo in lingua russa, Dostoevsky sosteneva che i suoi personaggi vivevano una santa guerra interiore. Santa Guerra racconta un viaggio nel subconscio di una donna che non riesce a superare un trauma. E questa santa guerra, infatti, è interiore. È questo circolo in cui si ritrova sempre a rivivere questo dolore di cui non riesce ad uscirne. Diciamo che, essendo un film appunto doloroso, ovviamente non auguro a un pubblico di capire al 100% quello di... Cioè, significerebbe aver vissuto un trauma. Purtroppo molti di noi un trauma lo si è vissuto. Magari non deve essere un evento tanto luttuoso come quello, ecco, magari del film. Però spero che possano percepire una piccola essenza del film e che si rivedano magari in una piccola parte, anche solamente, ecco. Molto importante la tematica che trattava. Per me è stato importante anche dover, anche tramite il suono, dare uno spessore e un significato alle immagini. Grazie.